Proseguono i lavori per trasformare il Parco San Valentino di Pordenona nel primo grande parco inclusivo d'Italia. Al termine del cantiere il polmone verde sarà infatti interamente fruibile alla stessa maniera da disabili e normodotati, dai giochi ai percorsi tra gli alberi. La riqualificazione è stata finanziata dalla Fondazione Pier Antonio Locatelli con la collaborazione del Comune. Questo intervento è anche la dimostrazione della capacità di tessere relazioni con il privato, soprattutto con quelle famiglie che hanno lasciato nel tempo un segno in città e che vogliono ancora incidere, dimostrare la loro lungimiranza, la loro generosità e la loro sensibilità nei confronti di Pordenone. In questo caso parliamo della famiglia Locatelli, anzi specificatamente della Fondazione Pier Antonio Locatelli che ha messo a disposizione un fondo molto consistente per la sistemazione dell'intero parco che diventerà un parco inclusivo di caratura europea, dove le dotazioni che il parco avrà consentiranno alle persone diversamente abili, come quelle normodotate, di potersi divertire, giocare e difruirne senza alcuna differenza, senza che nessuno percepisca la differenza nei giochi, nelle strutture e negli arredi. L'altro aspetto importante è la vivibilità del parco, la possibilità di fare ginnastica, sport, la vivibilità del laghetto che vada completamente bonificato. I lavori al momento riguardano i nuovi giochi inclusivi e il laghetto che verrà svuotato e nuovamente riempito. In questi giorni sono stati realizzati buona parte dei giochi, che non sono dei giochi preconfezionati ma vengono proprio realizzati ad hoc per questo primo parco inclusivo d'Italia. Contemporaneamente si stanno facendo le ultime attività amministrative e burocratiche per poter procedere allo svuotamento del lago, che servirà per due cose. La prima per togliere i fanghi che si sono accumulati nel tempo. Dall'altro lato, questa operazione servirà a realizzare un percorso di passerelle degradanti verso l'acqua, che consentiranno finalmente di poter godere a pieno di questo specchio d'acqua che è l'elemento centrale più attrattivo del parco di San Valentino. Al parco si può cedere da via interna, mentre l'ingresso da via San Valentino è chiuso per permettere appunto i lavori. L'area verde riqualificata verrà riaperta verso primavera.